Un capolavoro culinario di melanzane, pomodori, mozzarella e parmigiano. Accumula melanzane, pomodori freschi, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano. Taglia le melanzane a fette sottili e friggi in olio d'oliva fino a doratura perfetta. Fai una salsa con i pomodori, aglio, basilico e un pizzico di sale. Layer le melanzane fritte, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano grattugiate. Cuoci la parmigiana nel forno a 180 gradi per 30 minuti, fino a che non sia dorata e burbuliante.